Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia DOP L'aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia DOP, così va detto e così va dichiarato, è ricavato dai mosti dell'Ambrusco, del Trebbiano, del Sauvignon, dello Sgavette e del Berzemino. L'estate calda e secca di questi territori genera le condizioni ottimali per la concentrazione del prodotto, mentre l'inverno freddo favorisce la caratteristica limpidezza di questo aceto. L'aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia DOP ha un colore bruno scuro, lucente, limpido, il sapore dolce e agro, ben amalgamato. Il profumo è aromatico ovviamente, un aromatico persistente, viene commercializzato tutto l'anno in tre tipologie. Aceto tradizionale di Reggio Emilia DOP, bollino color aragosta, che ha un invecchiamento mai inferiore ai 12 anni. Poi c'è il bollino argento, con invecchiamento tra i 12 e i 25 anni. E infine il bollino oro, che dimostra un invecchiamento minimo di 25 anni. Questo è molto più denso rispetto alle altre due tipologie. Per freggiarsi della DOP, cioè della denominazione di origine protetta, esclusivamente il prodotto che ha superato un rigido esame fatto da maestri assaggiatori specializzati.